I finanziari del Comando Provinciale di Cosenza hanno sottoposto a sequestro oltre 280.000 prodotti non sicuri fra oggettistica e addobbi natalizi, risultati privi di etichetta o non conformi al codice del consumo. Il sequestro rientra in una più ampia operazione denominata Natale Sicuro che mira alla salvaguardia delle consumature affinché non acquisti i prodotti che in un modo o nell'altro potrebbero essere non idonee o le cui istruzioni non siano conformi alle leggi. In questo caso si tratta di addobbi posti in vendita senza etichetta in lingua italiana, non recarti informazioni chiare e precise per la sicurezza delle materie e componenti, nonché della filiera commerciale di provenienza. Dall'inizio della campagna le fiamme gialle cosentine hanno segnalato alla Camera di Commercio i titolari di 10 esercizi commerciali controllati, elevando sanzioni amministrative per oltre 250.000 euro.